e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video vlog spero esca a questo giro perché il mio cazzo di iphone ha deciso di esaurire la memoria quindi di non registrare tipo la diciottesima volta in una settimana che faccio questo video speriamo sia la dio cristo di volta buona allora e di cosa parliamo oggi come da titolo parliamo di intelligenza artificiale di ia e sempre più spesso negli ultimi anni ne sentiamo parlare e ci riempiamo anche la bocca no questo nome le ia chat gpt questo quell'altro però sappiamo effettivamente di che cosa stiamo parlando qualcuno ne parla anche con timore e con questa chiacchierata volevo provare con voi a fare un pochettino di chiarezza in merito e proverò a spiegarvi che cosa sono le ia chiaramente andremo un attimino anche su qualcosina di tecnico e io non essendo un esperto diciamo proprio in merito so qualcosa di programmazione ma poi vedremo che non c'entra assolutamente nulla però se qualcuno di voi è un pochettino più diciamo addentrato e vuole come dire integrare o dirci qualcosa in più faccelo sapere sotto nei commenti sempre in maniera educata aiuti me e aiuti anche chi vede poi il video a capire meglio allora l'intelligenza artificiale oia artificial intelligence è una tecnologia informatica che rivoluziona il modo in cui l'uomo interagisce con la macchina e le macchine tra loro conferendo alla macchina delle capacità di calcolo molto complesse che in un prossimo futuro permetteranno ad esse di compiere azioni ragionamenti complessi imparare dagli errori e svolgere funzioni fino ad oggi esclusive dell'intelligenza umana possiamo definire questa ia come il processo attraverso cui le macchine e i sistemi informatici simulano praticamente i processi dell'intelligenza umana l'obiettivo è quello appunto di far svolgere alle macchine compiti che all'uomo richiederebbero chiaramente molto più tempo per avere a che fare con le ia è necessario che siano presenti dei componenti hardware e dei componenti software specializzati per la scrittura e l'addestramento degli algoritmi di apprendimento allora dimenticatevi tutta la programmazione classica quindi python java questa roba qui non c'entra assolutamente nulla con questa roba è tutt'altro ok il tutto si basa sull'acquisizione di dati e sulla creazione di regole per trasformare i dati in informazioni utilizzabili le regole si chiamano algoritmi e forniscono ai dispositivi informatici istruzioni passo passo per completare poi chiaramente dei compiti specifici la programmazione artificiale si avvale di tre abilità cognitive umane che sono l'apprendimento il ragionamento e l'autocorrezione la processazione di grandi quantità di dati permette a queste ia di creare modelli di fare previsioni quanto più realistiche possibile e questo processo consente anche ai chat bot di produrre scambi di informazioni realistici e uno strumento e ha uno strumento insomma di imparare a riconoscere le immagini ad esempio e la troviamo applicata questa cosa in queste ia in moltissimi contesti quelli industriali per per le frodi cioè non per fare frodi anche forse vabbè per diciamo contro le frodi in tantissimi campi anche quello medico pensate a chiaramente applicazioni che applicazioni a chat a chat bot come chat gpt e gemini che stanno spopolando in quest'ultimo periodo però adesso ne parleremo meglio e vi dirò che cosa sono ok tuttavia questo processo o meglio la concettualizzazione è iniziata molti anni fa il termine intelligenza artificiale è stato coniato nel 1955 quindi pensate quanti anni fa da john mccatney nel 1956 mccatney e altri scienziati organizzarono una conferenza il dortum summer research project on artificial intelligence e questo evento ha portato poi alla creazione del machine learning del deep learning dell'analisi predittiva e ultimamente dell'analisi prescrittiva e ha inoltre dato origine poi a un campo di studio completamente nuovo ovvero la scienza dei dati abbiamo due tipi ragazzi di intelligenze artificiali abbiamo l'intelligenza artificiale forte secondo cui le macchine sono in grado di sviluppare una coscienza di sé e questa è molto pericolosa sta cosa che pericolosa vabbè da iso che studia sistemi in grado di replicare l'intelligenza artificiale e questo paradigma è supportato dal campo di ricerca dell'intelligenza artificiale dell'intelligenza artificiale si generale agi che studia i sistemi in grado di replicare l'intelligenza umana invece poi c'è l'intelligenza artificiale debole la quale ritiene possibile sviluppare macchine in grado di risolvere problemi specifici senza avere però coscienza delle attività svolte e l'obiettivo di questa teoria non è solo quello di realizzare macchine dotate di intelligenza umana il fine infatti è quello di avere sistemi in grado di svolgere una più funzioni umane complesse vi ricordate che vi ho parlato appunto qualche attimo fa di chat gpt e gemini beh quel tipo di a si basano sull'ia generativa o intelligenza artificiale generativa ok che per definizione l'ia generativa è un tipo di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi di machine learning ossia di apprendimento automatico per generare nuovi contenuti che in precedenza si basavano sulla creatività dell'uomo questi contenuti possono essere testo audio immagini video e codice informatico ora che abbiamo un attimo qua capito la questione no ed è un po più chiaro spero andiamo a vedere quali sono i rischi che ovviamente noi temiamo no queste intelligenze artificiali no abbiamo molta paura quasi non è soltanto temere cioè pensiamo che conquisteranno il mondo che gli androidi conquisteranno il mondo e ci spaccheranno il culo no invece non è così cioè questo deriva chiaramente un pochettino da sia la paura no il timore per qualcosa che non conosciamo sia un pochettino da passatemi il termine l'ignoranza però non in senso cattivo va bene cioè ignorare la materia ok quindi non vi offendete cioè non vi ho dato degli ignoranti anch'io sono un ignorante in informatica però è ignorare la materia ignorare l'argomento porta poi a essere un pochettino cioè se non sai di che cosa si parla chiaramente hai molta paura no di quella cosa non sai che è ok però come state vedendo chiaramente non c'è da avere paura anzi al contrario però dobbiamo andare ad analizzare per quanto riguarda i rischi intanto in primis l'aspetto che riguarda le professioni no cioè bisognerà un attimo regolarsi in merito avete capito la potenzialità di queste ia va bene che è molto alta e può rappresentare per alcuni settori una vera e propria minaccia cioè ci sono i ia che abbiamo detto che producono disegni scrivono codice ok testi scritti immagini appunto capite che è una cosa insomma la parte creativa perché se ci pensate in realtà se parliamo di lavori sequenziali e ripetitivi quale può essere magari diciamo la programmazione è anche un lavoro abbastanza ripetitivo se possiamo così definirlo no però è anche è anche creativo da un altro da un certo punto di vista no però è chiaro che immaginate se cioè immaginate che il codice venga scritto da una macchina ok che è molto più efficiente di noi e tutto quello stress tutto quel quel lavoro che state lì davanti al computer ora scrive il codice che poi non funziona eccetera invece lo fa la macchina e questo snellisce i tempi soprattutto diminuisce gli errori che ci possono essere e chiaramente ci fa vivere più rilassati perché non impazzite davanti al computer quindi secondo me per tutti questi tipi di task ok può essere un'ottima può essere ottima insomma come come supporto ok parliamo di supporto ok invece se parliamo di creatività in sé cioè la creatività è qualcosa di umano ok ci sono molte funzioni del nostro cervello che possono essere replicate ma alcune come prendere una decisione che implica non soltanto analizzare dei dati abbinare dei dati no ma metterci anche le emozioni beh questo non si può imitare ok una macchina non può imitare le nostre emozioni che sono però diciamo anche come vi ho fatto l'esempio prima della programmazione un tallone d'achille no cioè aumenta gli errori no sta lì te vi è l'ansia ti stressi cominci a innervosirti quindi questo producono no in te questo lavoro produce uno stress produce emozioni anche negative no invece la macchina lo fa in maniera liscia cioè va lì scrive e fa quello che deve fare tu l'ha impostata e fa lei però se pensiamo anche in altre professioni no come per esempio il campo medico no è chiaro che in quel caso dal mio punto di vista bisogna lasciare all'uomo cioè al medico al dottore la valutazione poi dei dati che vengono analizzati da queste ia ok cioè c'è una diagnosi vi faccio un esempio poi il dottore analizza la diagnosi legge la diagnosi e prende la decisione cioè non diamo la decisione alla macchina cioè perché potrebbe essere questo potrebbe essere non la cosa giusta da fare quindi diciamo che state tranquilli appunto non verremo invasi dagli androidi che ci schiavizzeranno ci frusteranno di notte ok cioè non accadrà questo dobbiamo solo imparare ad accettarle e che in futuro saranno nostre compagne queste intelligenze artificiali potranno essere anche dei robot no come avete visto un androide una sorta di androide un robottino che magari fa il badante cioè che può aiutare magari che ne so un badante che si occupa di una persona anziana che ha delle disabilità ok io sinceramente propendo più per un futuro dove l'uomo collaborerà con la macchina e quindi non dove una cosa elimina l'altra questo è la mia idea ragazzi e poi posso essere smentito detto questo fammi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensi parliamone insieme sempre in maniera educata e ragazzi noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti